Ti stai chiedendo perché ti faccio questo, lo so. L'amore non è superare il limite. Noi, il sito di Dating Online per donne e uomini già impegnati in una relazione. Cerchi una relazione a lungo termine, a breve termine o chat erotica. Direi breve termine. Ma non ti dà fastidio immaginarmi in Italia a chattare con qualche sconosciuta? È un capitolo della mia tesi. Tra poche ore arriva Niccolò Murphy de Valls. Viene a Roma per girare il suo primo film. Ophelia, totale disponibilità e reperibilità. Ehi, solo? Mi sa che stai facendo? Mi piace che mi cerchi. Io ti penso da prima di sapere che c'eri. Immaginami. Lasciami crescere dentro di te. Sappiamo ciò che siamo, ma non quello che potremmo essere. Chi sei? Ma dimelo tu, chi sono? È la produzione. Ma non sono queste piccole bugie a contare? Massa giochi, amore mio, ti prego. Penso di amarti troppo. Ti assomigliamo, io e te. Che ti succede? No, io non so più chi sei. Mi sento bene, mi fate uscire? Vieni da me. Vieni da me. Perché mi hai abbandonato? Vieni da me. Perché mi hai abbandonato? Vieni da me. Non sono più niente se non ci sei. Vieni da me. 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 Grazie a tutti.